L'Istituto Regina Margherita di Teramo ha una storia lunga oltre due secoli. Situato nel cuore della città, con ingresso da Piazza Dante e Viale Mazzini, un tempo è stato orfanotrofio provinciale, gestito dalle Suore della Carità. Qui venivano accolte le orfanelle, spesso abbandonate davanti a questo grande portone. All'orfanotrofio è sopravvissuta la scuola materna ed elementare, ma poi con il terremoto del 2009 l'immobile non ha retto e oggi è completamente inagibile. Ma sono i giardini bellissimi a poter essere recuperati subito se si volesse. Se volesse l'Asp 1 di Teramo, deputata alla gestione di questo sito, sito che la delegazione Teramana Fai ha candidato a livello nazionale come i luoghi del cuore. Così anche il comune di Teramo scende in campo per assicurare la propria partecipazione ad un nuovo progetto di recupero. Ridare questo luogo importante ai cittadini, sì, è stato qualche volta paventato dall'allora Assessore Bonziani, poi è stato il consigliere di Teodoro che ha sollecitato tante volte di assumere questa iniziativa come comune con la collaborazione dell'Asp per ridarlo in uso ai cittadini. L'auspicio è che si possa arrivare una collaborazione che possa garantire al comune di gestire questo luogo in collaborazione con l'Asp per un periodo superiore, almeno per un periodo dei tre anni, quelle che rimangono a questa amministrazione per la sua attività politica. Quindi un luogo importante da ridare ai cittadini, ce lo chiedono in tanti, ben ha fatto il consigliere di Teodoro a sollecitare questa problematica e quindi siamo su quella linea, una linea di collaborazione per ridare un luogo importante ai cittadini. Un primo progetto di ripristino di Regina Margherita era stato avanzato nel 2011 dai passati vertici dell'Asp 1 di Teramo. Allora la fondazione Tercas stanziò 100.000 euro per la messa in sicurezza delle facciate. Il luogo però è ormai chiuso e abbandonato da troppi anni e la città oggi lo rivendica con forza.